Un incontro, se vogliamo dire, storico per il Comune di Torre del Greco, oggi alla Stecca. L'argomento è quello di distinguere la categoria degli incisori da quello dei lavoratori del corallo. Perché è importante questa distinzione? La cosa fondamentale è dare agli incisori la loro categoria per aprire la loro attività commerciale, C1. Questa è la cosa proprio di base. Invece oggi gli incisori, che è poi una delle figure più belle che abbiamo sul nostro territorio, Torre del Greco, come poi viene sempre pubblicizzato nel mondo, Torre del Greco, Kamei e Coralli, erano costretti, fra virgolette, per una problematica anche di codice ad eco in Camera di Commercio, che loro erano costretti ad andare con il C3. Invece con l'incontro che ho fatto presso il SWAP con il dirigente in compagnia, in presenza dell'assessore Annarito Ottaviano, abbiamo definito bene questa circostanza. Adesso noi abbiamo parlato anche con il settore dell'urbanistica, con l'assessore Gennaro Polichetti e con le altre maestranze all'interno del settore dell'urbanistica, per portare a conoscenza che quindi gli incisori possono da oggi iniziare a determinare dei loro punti e creare pure una strada di incisori, ma con una caratteristica C1. Sono molto fiero, lieto, e ho qua una rappresentanza di quello che sono gli incisori Torre del Greco, e finalmente facendo questo connubio fra SWAP e urbanistica, dopo almeno 70-80 anni, riusciamo veramente a definire e spezzare questa maglia a favore di questa illustre categoria di incisori che sono, come si dice, l'emblema anche di Torre del Greco. A livello pratico cosa comporta distinguere la categoria degli incisori da quella dei lavoratori del corallo? Quale utilità rega le maestranze? Sono due lavori vicini, però così differenti. Noi, incisori del cammeo, utilizziamo una semplice conchiglia naturale che non produce residui nocivi, a differenza magari del settore orafo, che va più nell'industriale perché si usano degli acidi, dei macchinari, e delle cose che producono inquinamenti. Quindi noi ipoteticamente potremmo lavorare anche qui adesso. Abbiamo bisogno di un banchetto e non abbiamo bisogno di altri macchinari, quindi un semplice negozio per noi può essere sufficiente. Quindi dei vantaggi anche a livello commerciale e fiscale? Se noi parliamo del territorio di Torre del Greco non ci sono locali C3, mentre c'è abbondanza di negozi. Noi non usando, come dicevo prima, materiali tossici oppure sostanze nocive potremmo rientrare tranquillamente ed avere più scelta anche negli immobili o da acquistare o da locare. Noi siamo contenti in primis del supporto che stiamo avendo della coraggiosa amministrazione di questo periodo perché finalmente si va a scendere quella che è la lavorazione del corallo dalla lavorazione dell'incisione del cammeo. Se riuscissimo veramente ad ottenere la possibilità di operare in un locale C1 anziché C3 con tutti i vincoli che ci sono potremmo veramente riuscire a creare qualcosa di inedito a Torre del Greco, anche perché abbiamo gli esempi come Vietri, Città delle Ceramiche, a Napoli ci sono tante strade dedicate agli artigiani locali e a Torre del Greco non c'è mai stata una realtà del genere. Quindi fare qualcosa di speciale in una città che nasce con la prerogativa di avere un fiori, corallo e cammei sarebbe veramente un sogno per tutti noi.